Sembra che non sia molto servito lo sciopero della fame indettore Adelchi di Cato lo scorso 13 agosto che chiedeva al sindaco di Molina Terno, al prefetto dell'Aquila e al comandante dei Carabinieri la regolamentazione di via La Chiusa. Di Cato auspica ancora la ridisegnazione dei confini della via in questione. Lo sciopero della fame viene interrotto perché a detta degli organi competenti il suggerimento di Adelchi sarebbe stato di lì a poco tradotto nero su bianco. Sono passati due mesi e nulla da allora è cambiato. Di Cato torna ad ondato in G più deciso di prima pronto a ricominciare un altro sciopero della fame. Facciamo il punto. No niente, come avevo annunciato nella lettera di sospensione del digiuno mi era stato garantito dall'ingegnere che parlava a nome per conto del sindaco e del prefetto che entro il 15 settembre sarebbe svolto tutto l'iter necessario. Io lasciai dire, ho detto che va bene, anche il 30 va bene, però strada facendo mi sono accorto che non si stava facendo niente e me l'ha confermato lo stesso ingegnere che ha interpellato, ha detto una volta che mancava il segretario, una volta che mancava il sindaco e allora considerato che il 30 c'è stato il Consiglio Comunale, l'Aggiunta e il sindaco era presente e non hanno deciso niente, allora ho preso carta e penne e ho voluto avvisare il prefetto che se è vero quello che mi aveva detto l'ingegnere si era interessato del problema e voleva risolverlo. Quindi io spero che in questo frangente, perché non ho detto che domani vado a fare lo sciopro, ho detto se non saranno assunti i provvedimenti necessari, farò quello che... L'uomo annuncia che la battaglia adesso si farà ancora più dura e pronto anche a rifiutare i liquidi. Una questione, quella di via la chiusa, che sta a cuore addicato non solo per un fatto di giustizia quanto per un forte legame affettivo. Mio padre è stato in Africa, in miniera, è morto a 67 anni di silicosi per comperarsi qualcosa e ora vederla così, insomma, sottratta da chi magari non l'ha neanche sudata, mi pesa, mi pesa, perché economicamente non ha un grosso valore, ma effettivamente per me è tutto. Arriva dunque un altro ultimatum alla politica. Oggi per far ragionare chi gestisce la cosa pubblica bisogna lasciarci la pelle. Grazie. 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 Grazie.